La boutique del pane, pane caldo dal 1956 La prepezanese è pronto al rientro Alfonso Noviello La cui assenza per squalifica è stata pagata a caro prezzo nella precedente gara con le frazioni unite Persa per 2 a 1 C'è da dire che anche la fortuna non ha girato a favore dei bianco-blu Che hanno avuto diverse possibilità nel finale anche per non perdere Ma avere a disposizione almeno uno degli assenti avrebbe fatto comodo Il Cava si è allenato con impegno in questi giorni C'è stato anche un confronto tra la squadra e l'allenatore Pasquale Senatore E il presidente Maurizio Alfieri ha apprezzato molto la voglia di riscossa dei giocatori metelliani Non possiamo fermarci a guardare la classifica, ha detto il presidente Senza disconoscere il fatto che di punti ce ne siano soltanto 3 nel carniere del Cava United Vincere significherebbe recuperare ulteriore fiducia